Corsa di chiusura dal Savio, cavalli di 4 anni sui 1660 metri, sono in 11 al via, Odette DL, Oreste Gas, Ossidiana Jet, Orizzonte Pit, Ocra, Orotelli, in seconda linea Osio, Oscarino, Orlando, Sodercaf, Ola, Ola. Macchina che accelera, favori per Osio in chiusura, Alessandro Gossadola numero 7, partiti. L'errore di Ossidiana Jet, si lancia in avanti, Oreste Gas, poi Odette DL, veloce anche Orizzonte Pit che cerca di farsi un posto in corda, non riesce per il momento. 29, Orlando, squalificato. Squalifica per Orlando, intanto Serra sotto Osio, che va in terza posizione alla corda, all'esterno Orizzonte Pit, intanto cavalli al completamento dei 400 in 29,8. in coda, Odercaf, cavalli sulla piegata, e sempre leader Oreste Gas nei confronti di Odette DL, terza posizione per il favorito Osio. Intanto cavalli al passaggio davanti alle tribune, cerca di venire via in terza corsia, Ocra, dopo 800 metri di gara, anticipata però da Orotelli. Insistono, terza e quarta ruota per Orotelli e Ocra, in breve superano diversi avversari e tentano l'aggancio con il leader Oreste Gas, chilometro in 1,17,9. Sempre alla corda Osio, che cerca il varco per sgabbiare. Siamo intanto a 500 scarsi dalla conclusione, con sempre leader Oreste Gas nei confronti di Orotelli e l'esterno, alla corda c'è Odette DL, poi Osio. Intanto per corsia esterna è sempre anche Ocra, Ocra che accena la terza corsia, seguita da Osio, al comando però ancora Oreste Gas, che però non bellissimo di andatura all'ingresso, addirittura d'arrivo, viene attaccato da Orotelli. Numero 10, Odercaf squalificato. Orotelli si avvantaggia a centropista, Osio si ingamba ed è Osio che nel finale viene a concludere, è netto il secondo posto, è per Orotelli al terzo. Finisce Ocra piegando Odette DL. 1,17,5, bastati 200 metri a Osio per venire a vincere la corsa, scattando dalla terza posizione in corda, sull'ultima curva ha trovato il varco giusto e in retta d'arrivo. Emerso nettamente l'allievo di Alessandro Gocciadoro, training di Enrico Gocciadoro, per il signor Simone Castagnetti. E tutto quanto dal ipodromo del Sambi di Cesena, vi ricordo l'appuntamento con venerdì. Grazie.